Ciao a tutti ragazzi sono Stefano Castillo e benvenuti anche oggi in un nuovo video voglio assolutamente aggiornarvi con tutto quello che è successo in questi ultimi due giorni mi sento un poco come io però voglio per forza aggiornarvi perché ci sono tantissime notizie importanti che fanno ben sperare per tutto il settore cripto quindi adesso ragazzi iniziamo subito però prima di iniziare un mi piace basta un click come al solito il gioco è fatto e se non siete iscritti iscrivetevi al canale scusate per la voce davvero distrutta però sto recuperando piano piano e spero di stare bene il più presto possibile detto questo ragazzi tramite Crypto Bubbles possiamo ben vedere qui che il token di FTX FTT mette un più 90% quasi incredibile questa cosa perché è uscita una notizia molto importante per quanto riguarda l'exchange l'avvocato di FTX ha dichiarato che sono stati recuperati 7.3 miliardi in asset quindi stanno considerando ovviamente di rilanciare l'exchange nel secondo quarto dell'anno e ovviamente il token mette un più 100% e totale speculazione assolutamente ragazzi se devo darvi un consiglio state alla larga da FTX perché non sappiamo che ruolo avrà se riapriranno l'exchange e soprattutto non sappiamo se l'exchange una volta aperto le persone poi investiranno all'interno depositeranno soldi soprattutto dopo lo scam che è avvenuto poi nei mesi precedenti voglio parlarvi di tantissime cose interessanti per quanto riguarda anche l'alt season perché in questo momento che sto registrando siamo al numero 12 per quanto riguarda l'alt coin season index ed è il livello più basso toccato negli ultimi anni si può dire perché l'abbiamo visto il 13 maggio 2022 quindi possiamo dire quasi un anno fa e poi il prezzo delle alt coins toccato questo livello è salito a dismisura tornando anche verso il livello 98 che sarebbe l'alt coin season infatti i prezzi lì all'incirca sono saliti del 40-50% per la maggior parte delle criptovalute quindi per questo è importante tenere d'occhio questo livello infatti come anche vediamo qui secondo questo account twitter per vedere una fase di alt coin nel mercato bisogna vedere bitcoin che sta consolidando infatti in questo momento bitcoin è sui 30.000 potremmo assistere a una fase di consolidazione Ethereum Bitcoin, la coppia Ethereum Bitcoin inizia a fare percentuali incredibili abbiamo visto ieri l'aggiornamento di Ethereum per quanto riguarda Shanghai tra poco ne parliamo quindi potremmo assistere ad un pump di Ethereum rispetto a Bitcoin poi Ethereum rompe sopra i 2000 dollari e potrebbe iniziare così l'alt coin season quindi ricordatevi queste fasi ragazzi perché pian piano ci stiamo arrivando e se vediamo Ethereum fare percentuali più alte rispetto a Bitcoin potremmo finalmente rientrare in un alt season e vedere la maggior parte delle criptovalute registrare i percentuali migliori rispetto a Bitcoin visto che ultimamente Bitcoin ha rotti 30.000 abbiamo visto una percentuale abbastanza importante negli ultimi sette giorni per diciamo le maggiori criptovalute però non quanto Bitcoin detto questo ragazzi passiamo ad altre notizie importanti perché ieri abbiamo visto il mercato un po' correggere dopo il FOMC Minutes io stando male nel letto ho assistito a tutto però purtroppo non potevo commentare e fare video perché ero davvero distrutto però stamattina mi sento meglio quindi vi sto portando questo aggiornamento e secondo quanto dichiarato durante le FOMC Minutes in pratica la Fed è pronta a una recessione mild cioè mite che potrebbe avvenire più tardi nel 2023 quindi verso metà 2023 verso fine 2023 infatti il mercato azionario ha corretto un poco anche se la correlazione con Bitcoin ormai è abbastanza distante si può dire ultimamente quindi Bitcoin se ne è fregato in questo momento è sempre sui 30.000 cosa molto positiva e stiamo approcciando come ho detto spesso questa resistenza davvero importante questo grafico giornaliero quindi per quanto riguarda il prezzo di Bitcoin bisogna rompere diciamo all'incirca i 32.000-31.000 per vedere una continuazione del mercato e voglio dirvi anche una cosa importante ragazzi siamo diretti molto diretti verso un bull market che è il bear market ormai quindi teniamoci pronti perché queste potrebbero essere le fasi iniziali ovviamente non sono consigli finanziari come al solito però pian piano i fondi stanno rientrando notizie positive stanno di nuovo accadendo quindi potrebbe essere questa la fine del bear market pian piano se riusciamo a rompere sopra questa zona per il prezzo di Bitcoin qui sopra questa sarebbe tutta la zona dell'ultimae di Bitcoin quindi se riuscissimo ovviamente a rompere sopra potrebbe essere molto positivo e tornare finalmente in bull market e ne vedremo delle belle anche per quanto riguarda le altcoins altre notizie importanti riguardo Ethereum è avvenuto l'aggiornamento Shanghai di Ethereum e sono stati sbloccati 34.5 miliardi di token Ether e per essere prelevati anche se non possono essere prelevati tutti insieme ragazzi bensì ci sono dei blocchi quindi va a blocchi il prelievo e per questo non abbiamo assistito ovviamente a una forte selling pressure anzi nel lungo termine come ho sempre detto questo è positivo perché diciamo Ethereum passa concretamente alla proof of stake quindi i validatori, i stakers possono prendere diciamo i profitti generati dallo staking e questo è altamente positivo per tutto il settore cripto soprattutto per le altcoins quindi stiamo aspettando con tanta ansia di vedere il prezzo di Ethereum fare percentuali assurde per trascinare poi il resto delle altcoins che ripeto in questo momento è davvero super stabile il prezzo non mettono percentuali interessanti siamo sempre lì per quanto riguarda ragazzi altre notizie importanti dal punto di vista macroeconomico sono usciti anche i dati sull'inflazione ieri e abbiamo visto un dato del 5% quindi più basso rispetto alle previsioni del 5,2% io vi ho commentato il tutto tramite Telegram l'unica cosa che sono riuscito a fare ieri quindi questo è bullish per gli discount assets perché nel prossimo FOMC di maggio tra 20 giorni all'incirca la Fed potrebbe alzare i tassi di interesse solo di 25 punti base il 64% degli analisti pensa che la Fed debba rialzare i tassi di interesse di 25 punti base e solo un 35% pensa ovviamente che non verrà affatto nessun rialzo però in base ai dati secondo me la Fed vede un'inflazione più bassa ma non così bassa quindi secondo me continuerà con questo rialzo dei tassi di interesse rimarrà stabile e per fine anno potrebbe poi diminuire e questo è positivo per tutti gli asset di SCON e ovviamente non è nel breve termine ragazzi dovete sempre pensare nel lungo termine perché poi succede quello che succede Bitcoin sul livello importante e anche la maggior parte delle criptovalute non sono messe male, i volumi stanno rientrando, piano piano ci riprenderemo e io come al solito ragazzi vi aggiorno sempre tramite i miei social che sono qui in basso in descrizione i social ufficiali, attenzione ai profili finti perché ci sono tantissimi profili finti a noi e mio che servono per truffare le persone quindi per favore state attenti e date un'occhiata anche ai link che sono qui in basso in descrizione per quanto riguarda i bonus c'è il copy trading di Bitget, copy trading spot quindi meno rischioso mettete dei soldi e vi affidate a questi traders usciranno video interessanti ragazzi a breve non appena sto meglio purtroppo per quanto riguarda Bitget perché mi sto sentendo con un ragazzo che fa copy trading su Bitget quindi so chi è e come fa trading e quali sono le sue percentuali e voglio consigliarvelo poi abbiamo anche la promo con Bing X per ricevere 100 USDT bonus quindi date un'occhiata a tutti i link che sono qui in basso in descrizione per quanto riguarda il Bitcoin Firing with Index siamo al numero 61 sempre in avidità e nonostante un po' quello che è successo in questi giorni il prezzo rimane stabile di Bitcoin, il mercato cripto pare stia tenendo anche se mi aspetto una piccola correzione perché non possiamo salire sui 40.000 direttamente c'è bisogno di vedere una correzione, il ritracciamento è sempre così quindi non andate in panico nel caso in cui vedete il prezzo di Bitcoin scendere anche su 28.000, 27.000, 26.000 prima di arrivare sui 35.000 eccetera detto questo ragazzi grazie mille a tutti per la visione di questo video noi ci vediamo presto con la prossima avventura spero di stare meglio nei prossimi giorni così da non avere questa voce bruttissima grazie mille a tutti, un mi piace, un'iscrizione, a presto